La comunità della chiesa Abbiata Maria Vergine del Transito di Favara ieri infesta per il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Goffredo, originario della Repubblica Democratica del Congo. Goffredo Gilwempo Malosa è stato affiancato da tre mesi a Don Salvatore Zammito per la guida della parrocchia di Via Umperto. I fedeli si sono riuniti in preghiera per festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal loro pastore. 25 anni fa ha spostato la chiesa, quali sono i suoi ricordi? Un ricordo di gioia e di riconoscenza verso Dio per la sua fiducia. Un sentimento di gioia anche per essere contatto come collaboratore del mio Signore. Questo mi fa veramente una grande gioia. Cosa l'ha spinta a fare questa decisione e a continuare? È una chiamata di Dio, è una chiamata di Dio e anche la sua fiducia in me. Ho passato un tempo veramente brutto e anche duro, ma con la fiducia in Dio possiamo fare tante cose. Per l'occasione a concelebrare la Santa Messa anche diversi sacerdoti di origine africana. Presente il Sindaco di Favara, Rosario Mancanella. Ovviamente questi sono appuntamenti importanti che un'amministrazione comunale non può far cadere nel silenzio. Ed è giusto che ci sia oggi qui l'amministrazione cittadina a rappresentare l'istituzione comune per un fatto che non sempre si verifica di continuo. 25 anni di sacerdozio rappresentano sicuramente un primo grande traguardo. Speriamo che ce ne siano tantissimi di questi venticinquesimi. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Padre Goffredo per quello che sta facendo per la comunità della Madonna del Transito, ma ovviamente soprattutto per quello che fa per la nostra città. Grazie a tutti.